Chiudono in rosso le principali piazze finanziarie europee, Milano archiva le contrattazioni inizio settimana accedendo all'1,02%, Londra segna a meno 0,91%, Francoforte a meno 0,63%, Parigi a meno 0,76%, a Piazza Affari i maggiori titoli che mostrano il segno negativo sono CNH Industria a meno 3,77%, Tenaris a meno 2,67%, Unicredit a meno 2,54% e Ferrari a meno 2,33%. In positivo il rialzo maggiore è per la Juventus, più 1,73%, seguito da Bozzi Unicen più 1,51% e Azimut più 1,09%.